Cari cittadini, buongiorno, sono di nuovo davanti a voi per rispondere ad alcune polemiche inutili sollevate dalla minoranza. Non mi piace scrivere su Facebook e allora preferisco parlarvi direttamente. Il problema Tari non è una cosa nuova. Già in Consiglio di maggio 23 abbiamo parlato di questa Tari. La Tari non è una tassa che può essere ascritta all'amministrazione. È un aumento che viene fatto in base allo smaltimento regionale dei rifiuti in discarica e che quindi aumenta perché le discariche sono sature e quindi bisogna trovare altri luoghi per ottenere il risultato di eliminare i rifiuti. Questo costa molto di più perché bisogna andare fuori regione e qualche volta addirittura fuori Italia. Quindi la situazione non riguarda l'amministrazione o l'impegno delle nostre ditte per lo smaltimento. È una questione che riguarda altri settori al di fuori della nostra volontà e che purtroppo ricade non solo sul comune di Belvedere ma su tutti i comuni della Calabria e forse anche di altre regioni. Per quanto riguarda le procedure della gara dei rifiuti non è un problema politico. È un problema che deve essere affrontato e risolto dagli organi competenti, cioè dagli uffici preposti a questo. Sono delle scelte che vengono fatte in base alle situazioni che vanno migliorate nel nostro Paese. Quindi ci sono delle valutazioni tecniche fra i dirigenti e fra le ditte che devono svolgere questo lavoro. Ma la politica non c'entra nulla, non può fare nulla perché queste sono scelte legate esclusivamente alle necessità della situazione, dell'ambito in cui si svolgono queste cose. Quindi non facciamo storie politiche per cose che non ci riguardano e non possiamo cambiare. Per quanto riguarda poi la faccenda dei costi, forse non sarebbe sbagliato fare un esame di coscienza a tutti noi. Tutte le bonifiche che dobbiamo fare per i rifiuti ingombranti che coprono il nostro territorio, quelli sono costi aggiuntivi che vengono pagati dalle nostre tasche. Quindi quei signori che vanno buttando cumuli di spazzatura e cumuli di ingombranti, sono loro che creano disagio alla nostra cittadina e sarebbe ora che la finissero. Anche perché mi risulta che qualcuno si fa pagare per raccogliere questi rifiuti ingombranti in case e poi le va a depositare sul nostro territorio. Queste sono cose che non devono succedere. Quindi è obbligo per tutti noi di stare attenti e di continuare a lavorare perché il Paese è migliore, non per fare scaramucce politiche di nessun conto. Buona giornata.